e tavola 9 vediamo adesso la costruzione dell'ellisse le costruzioni dell'ellisse sono di tanti tipi nel senso che l'ellisse si può costruire in tanti modi noi adesso lo costruiamo conoscendo due dati che sono l'asse maggiore e l'asse minore l'asse maggiore lo facciamo lungo 22 cm AB e l'asse minore CD lo facciamo lungo 16 cm il tipo di costruzione che adesso faremo è detta anche costruzione del giardiniere perché può essere realizzata in modo pratico anche con un bastone e una corda oppure anche sul foglio con due puntine e uno spago vi metto poi in classroom anche un video che fa vedere questa costruzione che utilizza esattamente lo stesso principio che adesso noi utilizzeremo allora la prima cosa che dobbiamo fare è trovare i fuochi allora intanto definiamo l'ellisse l'ellisse è il luogo geometrico dei punti che sono sempre equidistanti dai due fuochi adesso capiamo meglio che cosa significa allora la prima cosa che dobbiamo fare è trovare i due fuochi allora il fuoco F1 prenderemo il compasso con apertura AO che è esattamente la metà dell'asse minore la metà dell'asse maggiore scusate puntando in C tracciamo un arco e nell'intersezione troviamo F1 la stessa cosa la facciamo dall'altra parte e troviamo F2 adesso vedete pure voi che praticamente F1C e CF2 cioè la somma di questi due segmenti è uguale esattamente ad AB perché se come vedete anche qui CF2 è pari ad AO CF2 e CF1 sono uguali AO e AB sono uguali e esattamente questa dimensione è l'asse maggiore quindi potremmo dire, appunto dicevo prima, adesso però vedremo concretamente che l'ellisse è il luogo geometrico dei punti che sono equidistanti, la cui somma di questi punti tra i due fuochi è pari all'asse maggiore come nel punto C andiamo avanti adesso che cosa faremo? praticamente dal punto F2 tracciamo tutti i punti a distanza di un centimetro l'uno dall'altro quindi il punto 1, il punto 2, il punto 3, il punto 4, il punto 5, il punto 6, il punto 7 rimarrà uno spazio che è meno di un centimetro ma non ci interessa quindi in questo modo individuiamo, questo lo passiamo tranquillamente con la squadretta, questi punti adesso che cosa facciamo? apriamo il compasso con apertura pari a A1 lo vedete qui facciamo centro in F1 e tracciamo un arco facciamo, apriamo il compasso con un'apertura pari a 1B cioè la rimanenza e facendo centro in B facciamo un altro arco ok? scusate, facendo centro in F2 scusate tracciamo l'altro arco quindi il punto di intersezione tra questi due archi determina il punto 1 allora questo punto 1 che caratteristica ha? che F1 1 più 1 F2 quindi apertura 1 più apertura 1B apertura 1 più apertura 1B è uguale esattamente all'asse maggiore questa sarà la costruzione con cui faremo l'ellisse nel senso che la stessa cosa la faremo per tutti i punti e anche negli altri quadranti infatti la stessa cosa la possiamo fare sotto determinare il punto 1 sotto facendo esattamente le stesse operazioni solo che invece che fare gli archi diciamo nella parte superiore del foglio la facciamo nella parte inferiore la stessa cosa la possiamo fare nella parte sinistra e nella parte destra cioè esattamente con le stesse aperture cioè voi potreste anche una volta che aprite il compasso di A1 facendo centro in F1 fate l'arco lasciando il centro lì fate l'arco sotto e la stessa cosa la fate da F2 e ugualmente nella seconda parte 1B facendo centro in F2 si fa l'arco sopra e l'arco sotto facendo centro in F1 l'arco sopra e l'arco sotto e abbiamo trovato questi quattro punti facciamo esattamente la stessa cosa con il punto 2 cioè apriamo il compasso con apertura questa volta A2 facciamo centro in F1 e facciamo l'arco apertura 2B facendo centro in F2 e troviamo il punto 2 vedete già si intravede che unendo questi punti ci può essere una sorta di ellisse anche in questo caso facciamo la stessa cosa a sinistra e la stessa cosa sotto facciamo la stessa cosa per il punto 3 adesso vado veloce perché la costruzione è esattamente la stessa e quindi troviamo tutti questi punti 3 facciamo la stessa cosa col punto 4 quindi apertura pari A4 puntando in F1 troviamo il 4 l'apertura pari a 4B puntando in F2 e facciamo la stessa costruzione eccolo qui e facciamo poi sia a sinistra che sotto e la stessa cosa la facciamo con i punti 5, 6 e 7 sia sopra che sotto vedete ecco questa qui adesso qui ancora lo vediamo in fase di costruzione vedete tutti questi punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sopra, sotto, destra e sinistra unendoli tra di loro determinano l'ellisse allora quindi li uniamo come li uniamo? chiaramente in questo caso bisogna che li uniamo a mano libera quindi l'ellisse non verrà perfetto in realtà si potrebbero usare anche i curvilini però spesso il risultato non è buono possiamo tranquillamente farlo a mano libera anche se magari viene un po' tremolante non fa niente con un po' di esercizio alla fine verrà bene e in questo modo noi abbiamo praticamente disegnato il nostro ellisse con questa costruzione che è la costruzione dell'ellisse del giardiniere che è la costruzione